Il progetto per gli scavi di Alarico, fortemente voluto dal Presidente della Provincia e Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, è entrato nel vivo con l'inizio della ricerca, partita da dati e informazioni di carattere storico associabili ad ambiti geografici localizzabili. Iniziano le attività di ricerca grazie anche alle strumentazioni che oggi abbiamo e che ci consentono con azioni non incisive di rilevare dalla superficie alcuni vuoti o presenze di metallo nel sottosuolo. Oggi voglio dire sia con la presenza di droni, con fotocamere anche termiche che stanno sorvolando l'aria indicata dal piano di ricerca, sia attraverso questi strumenti che indagano nel sottosuolo con onde elettromagnetiche, se ci sono delle presenze metalliche o dei vuoti, stiamo conviendo le prime operazioni. Da queste indagini verranno acquisiti dati con le eventuali strutture antropiche sepolte e inglobate in esse che saranno visibili come anomalie con relativa geometria. L'anomalia eventualmente riscontrata si confronterà con la geometria attesa della camera sepolcrale di Alarico. Sono operazioni che si porteranno avanti per mesi perché abbiamo degli indizi sia di natura storica che di natura geografica, quindi intersecando, mettendo insieme questi indizi possiamo individuare delle zone specifiche sulle quali fare queste attività e poi dopo procedere eventualmente agli scafi.